Annuncio ritardo, annuncio ritardo, è in partenza in ritardo, 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 ritardo previsto di 45 minuti, ci scusiamo, ci scusiamo, previsto in arrivo da Parma alle ore 15.08, oggi non è stato effettuato, in 60 minuti, toccancio l'astione freno, toccancio l'astione freno, toccancio l'astione freno, un autobus sostitutivo in stazione Bonina, grazie per l'attenzione, buon viaggio Grazie a tutti